In che stato, in che stato, in che stato, ti presenti all'esame di Stato, no non cambia espressione o felicità, se la chiamano maturità. Con la sua canzone Matu Maturità aveva spopolato sul web ed adesso sono arrivati gli elogi addirittura del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella. Andrea Franceschetti, professore italiano e latino del liceo Cittadio Chiero di San Sepolcro, aveva infatti scritto assieme ad uno studente la canzone per celebrare tutti i ragazzi delle classi quinte, quest'anno alle prese con un esame di maturità indubbiamente insolito. In che stato, in che stato, in che stato, ti presenti all'esame di Stato, no non cambia espressione o felicità, se la chiamano maturità. Era stato poi lo stesso professore ad inviare un'email alla massima carica dello Stato ed adesso è arrivata la risposta attraverso l'ustizio di segreteria del Quirinale per mano del consigliere direttore Simone Guerrini, che ha mandato anche un messaggio d'augurio a tutti gli studenti. Gentile professor Franceschetti si legge nella risposta dal Quirinale. Il Presidente della Repubblica ha ricevuto la sua gradita email e mi incarica di ringraziarla molto per le calorose espressioni di stima indirizzategli e per averlo reso partecipe del simpatico video creato per incoraggiare i suoi studenti. Nell'esprimere tutto il suo apprezzamento per l'impegno profuso, augurando ai suoi studenti di continuare ad essere cittadini attivi, consapevoli e solidali, il Presidente Mattarella, certo che tutti insieme riusciremo a sconfiggere presto il Covid-19, invia a lei, ai docenti e al personale tutto del liceo di Sansepolcro i più cordiali saluti a cui aggiungo volentieri i miei.